Diretora del Servizio Saúde Municipio Dili, se prepara il recurso, non è bello coloco paciente dengue, bai e tassi tolu. Diretora del Servizio Saúde Municipio Dili, Agustinia Segurado Hateten, bai e tassi tolu, non è bello coloco paciente dengue, bai e tassi tolu, non è bello coloco paciente dengue, bai e tassi tolu, non è bello coloco paciente dengue, bai e tassi tolu. Diretora del Servizio Saúde Municipio Dili, Agustinia Segurado Hateten, Sala Internamento Veracruz. Tar、「 protan' nota hotspotrum, non è bello coloco paciente? Diretora del Servizio Saúde假ur oh trutha, non è bello coloco paciente con onore, bai e tassi tolu, non è bello coloco paciente? Pag. di cui si vedi e il lavoro, ci sono fissi di conto, che non siamo fissi di conto, se ci sono i libri di conto che si sono fissi. Perché? Altrattiva quella è quella che si possono fare i conti. Quando ci sono i conti, ci sono i conti di conto di conto che si possono fare i conti. Si possono fare i conti, i conti, i conti, e i conti, Il nostro corso di medici è stato un'azistente per l'assistenza. Non ci sono alcuni di alternativi, ma abbiamo bisogno di fare il risultato, ma ci sono alcuni di risultati per l'assistenza. Dato in generale del Ministero dell'Azudio, dopo aver guardato il risultato di San Antonio, il Timor-Leste ha registrato un caso di un'azistente che ha avuto il risultato. Grazie a tutti.